Ciao, oggi vogliamo parlare dell'importanza dei lettori reader per quanto riguarda la ricerca del lavoro. Ne abbiamo già parlato precedentemente nel forum o blog, tra virgolette, informazionilavoro.com però adesso volevamo fare un video dimostrativo. Noi utilizziamo come reader theoldreader.com soprattutto perché ci sono sia gli accessi tramite Facebook che tramite G+, quindi non c'è bisogno di essere registrati nel sito ufficiale. Quindi cliccando qui potete andare sicuramente, vi inserite subito sull'interfaccia di Google e potete accedere tramite Google. Qui ci chiede password e email perché siamo in modalità anonima. Quindi questo di qua è stato più che altro per farvi vedere perché utilizziamo theoldreader che è comunque molto efficace come lettore. Però voi siete libri di sceglierne qualsiasi altro, basta scrivere su Google del lettore reader e lui vi darà tantissime un elenco infinito. Allora, adesso invece abbiamo finito la modalità anonima e siamo entrati in quella normale. Quindi potete vedere subito che ci sono vari link di molti siti nel nostro reader. Soprattutto, beh, ci sono alcuni di informazioni, ma altri, soprattutto molti, sono di lavoro. Quindi utilizziamo questo e vediamo che ci sono le offerte di Geox. Qua ci sono delle offerte generiche, qui invece sono delle offerte targettizzate per la provincia di Bologna. Qui infojobs, poi abbiamo infoa, decalton, bandi di concorso, hm, annunci del telefono azzurro, annunci della provincia targettizzata, alcuni dell'atle, gazzetta del lavoro, concorsi.tifla e su giovani. E tanti altri, anche qui il Ministero del Lavoro e il Circuito Lavoro e concorsi. Alcune sono targettizzate, altre sono invece a livello nazionale. Però ce ne sono molte che comunque sono interessanti. Allora, come possiamo aggiungere una sottoscrizione? È semplicissimo. Clicchiamo qui e inseriamo le parole che ci interessano. Per adesso lavoro Bologna. Inseriamo, clicchiamo qui e ci darà sicuramente, vedete subito, c'è un elenco di tutti i siti consigliati. Se ne volete inserire di altri, perché poi voi potete fare qualsiasi tipo di ricerca, quindi possono cambiare questi di qua, però se non riuscite a trovare quello che vi interessa, potete tranquillissimamente inserire qui il link del feed. Noi adesso vi facciamo vedere come abbiamo inserito quello di Infojobs. Allora, basta andare su Google e mettere qui Infojobs Bologna. Noi mettiamo Bologna perché ci interessa la città di Bologna, però questo di qua dipende da voi. Se è di Torino, inserite Torino. Se è di Milano, inserite Milano e quant'altro. Perché se non inseriamo niente, inseriamo soltanto Infojobs RSS, ci dà vari tipi di feed, però localizzati in tutto il territorio nazionale, quindi non riusciamo subito a trovare quelli che ci interessano. Per essere targetizzati utilizziamo quello del sito che ci interessa, della città che ci interessa e gli RSS. Se li troviamo, siamo fortunati. Allora, questo di qua, la prima ricerca che ci ha dato è questo. Clicchiamo subito e vediamo subito che c'è qualcosa che non va. Perché? È vero che è targetizzata nella località che ci interessa, quindi va benissimo. Però vediamo subito che vengono inserite soltanto le offerte di lavoro della farmacia medicina e salute, quindi ci togliamo così praticamente una fascia di offerte di lavoro che ci possono interessare. Quindi andiamo qui e eliminiamo anche questa che non ci interessa. Facciamo, clicchiamo e ci dà un altro indirizzo. Possiamo usare questo, ma io utilizzo questo di qui perché proprio vedete subito, aggiungi manualmente questo URL, vedete subito, che praticamente è un tipo di link che è, diciamo, specifico proprio per essere letto dai RSS. Quindi, adesso che succede? Siccome questo di qui è uguale a quello che abbiamo noi, perché la città è uguale, lui sicuramente ci riproporrà quello che già noi abbiamo, quindi sarà questo di qui. Però vi faccio vedere che effettivamente corrispondono, perché le ultime offerte di lavoro sono queste, store manager, scusate, casa Lecchio e programmatore Java. Vediamo se effettivamente nel nostro foglio qui corrispondono. Allora, vedete subito che comunque la città è giusta, le offerte di lavoro quindi ci sono giuste. Vedete subito che l'ultima offerta è programmatore Java e lì era anche, e anche store manager. Se scorriamo comunque possiamo vedere che ci sono anche offerte, insomma, store manager Imola, insomma comunque dovrebbero, vedete subito, corrispondono precise. Quindi se scorriamo la lista vediamo che le offerte di lavoro, le ultime offerte di lavoro, corrispondono sia nel testo questo che nell'altro. Quindi un'oltre inserito, la red feed comunque si aggiornerà automaticamente. Quindi potete vedere tantissime informazioni in un'unica schermata web, senza andare sul singolo sito. Questo di qua diciamo è importante soprattutto, prima di tutto, perché siete aggiornati comunque in tempo reale o comunque con poca differita. Quindi potete inviare il vostro curriculum in modo abbastanza veloce al proprio selezionatore. Quindi per esempio se un'offerta di due o tre ore fa vuol dire che i curriculum che saranno arrivati saranno pochi. Se invece per esempio sono già di dieci giorni, i curriculum saranno molti, magari il selezionatore è già selezionato i vari candidati. Oppure è abbastanza stanco e quindi la sua casella mail è satura, se parliamo poi di Infojobs, proprio la piattaforma sarà satura di curriculum. Quindi diciamo che è molto difficile che il selezionatore possa selezionare il vostro profilo, anche se magari il vostro profilo è molto attinente. Quindi è poi un altro vantaggio di utilizzare i RFID, proprio il discorso che comunque potete tranquillissimamente visionare milioni di milioni, vabbè, tantissime offerte di lavori in un'unica pagina. Vi organizzate prima, potete comunque, vedete subito che qui ci sono alcune offerte che stanno comunque così senza appartenere a una categoria specifica. Però potete creare una cartella dove inserite soltanto il lavoro, quindi potete usare vari tipi di cose, per esempio una categoria che si occupa di lavoro, altre di informazione, altre di hobby e tutto quello che volete. Quindi potete essere informati non soltanto per quanto riguarda il lavoro, ma anche per hobby, per informazioni, per divertimento, qualsiasi cosa. Noi ovvio che parliamo di lavoro essendo il blog informazionilavoro.com. Quindi seguiteci perché questo è l'inizio di una serie di nuovi video che si occuperanno di dare consigli o comunque piccoli tips sul mondo del lavoro e sulla ricerca. Allora, questo è più o meno quello che volevamo far vedere. Vi salutiamo dicendo che sotto il link vi è l'open page informazioni, lavoro, member. Perché abbiamo l'open page? Perché siamo affiliati al forum open page Italia. Quest'ultimo permette di dare open page a chiunque. Quindi noi adesso siamo diventati come se fossimo issue e possiamo dare open page alle persone e lo vogliamo fare nel nostro canale YouTube. Infatti se avete un canale e se volete creare gamificazione nella vostra azienda potete contattare direttamente il forum open page Italia. Con questo è tutto. Vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon weekend. Ci sentiamo prossimamente con altri consigli riguardanti il mondo del lavoro. Grazie a tutti.